Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Quando pensiamo al concetto di intelligenza artificiale tendiamo magari a pensare a scenari anche futuristici che senza dubbio ecco la riguardano, ma noi possiamo sperimentare l'intelligenza artificiale in maniera semplice, semplicemente aprendo il nostro browser da qualunque dispositivo senza installare nulla ed andando su autodraw.com, sito di riferimento, esattamente questo che vi leggo dalla barra degli indirizzi è DRAW. A chi si rivolge autodraw? A mio parere si rivolge ad alunni naturalmente un pochino più piccoli dunque scuola dell'infanzia e scuola primaria, a docenti di sostegno e ora vedremo il perché, ad alunni BES quindi con bisogni educativi speciali come supporto ai casi direi eventuali di disgrafia, questo sempre a fronte di alcuni test che ho già condotti con diversa tipologia di alunni e vedendo anche, come dire, le risultanze di gradimento che questa risorsa riscuota nei confronti dei tanti colleghi a cui l'ho proposta negli anni nei corsi in presenza. Allora, cosa fa autodraw? Mi fa disegnare ma in una maniera particolare, disegnare e scrivere, aggiungo. Guardate, questa è l'interfaccia, cioè questa è la finestra che si presenta a noi, pulita. Con i tre trattini in alto a sinistra io posso scegliere se il foglio lo desidero orizzontale panoramico, più rettangolare insomma, se io desidero, cliccato sul secondo modello, un foglio più quadrato, il cosiddetto quattro terzi, oppure ancora se io desidero un foglio verticale. Vi consiglio, anche per provarla, di utilizzare il foglio in orizzontale e guardiamo con che semplicità si utilizza. Allora, questi sono gli strumenti di lavoro. Naturalmente il protagonista, quindi lo strumento protagonista per noi è questa matita con le stelline accanto, l'autodraw appunto. Guardate, semplicemente io vado a posizionare il puntatore sul cerchio colorato e a scegliere ad esempio un colore, per cui io vado a prendere un rosso, vado in autodraw e simulo, in questo caso, io che sono al computer, lo faccio con il tasto sinistro premuto del mio mouse, il voler tracciare una forma geometrica. Pensiamo ad esempio ad un cerchio che comunque può, voglio dire, non risultare, ecco, perfettamente corretto. Allora, guardate, in alto, grazie all'intelligenza artificiale, Google Autodraw ci chiede do you mean, cioè forse intendevi e ci propone sia la possibilità di perfezionare la forma mostrandoci a che cosa il nostro disegno si avvicini, per cui se io clicco ho in realtà un cerchio perfetto, ma pensando appunto agli alunni più piccoli o anche ad alcuni casi particolari dove io voglia utilizzare questa attività anche per fornire degli stimoli cognitivi, il cerchio a quali oggetti della vita quotidiana può assomigliare, può assomigliare a un pianeta con dei crateri oppure ad un biscotto, potrebbe assomigliare ad una pallina d'albero di Natale, ecco, è molto interessante utilizzata in questo senso. Inoltre, io ho la possibilità, cliccando su questo secchiello fill, anche di riempirla una forma, per cui se io clicco sul secchiello fill, poi clicco sul rosso, in realtà vado a selezionare un giallo e clicco all'interno della sfera, ecco che ho ottenuto un rapido riempimento. Pensiamo ad esempio ad una forma geometrica, perché il cerchio certamente lo è, ma è una forma insomma semplice che pur magari tracciando in maniera errata si possa intuire, però vediamo, io clicco sulla mia matita con le stelline, provo a tracciare un triangolo, vedete che il giallo è rimasto in memoria da prima, ecco io non l'ho tracciato bene, però vediamo che sempre tramite intelligenza artificiale, Google autodraw mi chiede sempre il famoso do you mean, forse intendevi, e io allora ho la possibilità di scegliere un triangolo in questo caso, oppure ancora uno specifico triangolo rettangolo, ad esempio perché voglio spiegare il teorema di Pitagora, potendo poi con la matita semplice, un click, il draw, cliccando sul mio pulsante rotondo giallo e andando a individuare un rosso, utilizzare a questo punto la modalità disegno normale e andando a segnare quello che è l'angolo retto di 90 gradi. Se io voglio indicare, magari digitando a questo punto con un testo un pochino in evidenza è chiaro che quello è un angolo retto di 90 gradi, io allora posso cliccare sulla mia T, type, inserimento testuale, ho semplicemente il tipo di font da cambiare, cioè il tipo di grafia in alto e il corpo, cioè la grandezza della mia scrittura qui a destra, io in realtà che cosa faccio adesso? Clicco, posiziono il mio cursore lampeggiante e come vi dicevo prima vado a digitare 90 gradi. posso selezionare la mia casella di testo, in alto posso ancora cliccare sul tipo di font e prendere ad esempio un font pacifico, questo un pochino più armonioso, il 48 lo clicco come grandezza e lo porto magari a 36, poi clicco sul mio pulsante a forma di quattro frecce che è la selezione, questo mi serve perché io vado, tenendo premuto il tasto sinistro, ecco a posizionare ancor meglio la mia casella di testo. Per cui, ecco che abbiamo uno strumento semplice lineare con però alcune funzioni che chi di voi usa magari in maniera frequente la LIM, riconoscerà tra quelle presenti in molti dei software autore che proprio troviamo sulle diverse tipologie di LIM. Inoltre questo pulsante shape, quindi quello con le forme geometriche ci consente al bisogno di utilizzare proprio diverse forme per poter in questo caso tracciarle non in modalità auto draw, cioè con il riconoscimento dell'intelligenza artificiale, ma in modalità classica. Il pulsante che vediamo assolutamente qui in basso con la freccia di curva undo, undo, è il classico annulla per poter andare un passo indietro e non c'è bisogno di gomma, non abbiamo nulla da cancellare perché se vogliamo immediatamente ripartire, clicchiamo sui tre trattini in alto a sinistra e in realtà mediante lo start over, quindi start over che vediamo qui, se io clicco su una nuova tipologia di foglio, clic, ho ripulito tutto e sono pronto a partire nuovamente. Inoltre se voglio conservare il mio lavoro, ed ecco di nuovo che vado a tracciare un brutto triangolo che però viene sentito all'intelligenza artificiale ed ecco qui che questa volta non prendo più una forma geometrica ma un oggetto quotidiano, quale può essere, insomma il triangolo ricorda la forma del cono da lavoro e da lavori stradali, eccolo qui sulla mia lavagna. Per memorizzare questo lavoro in realtà io clicco ancora sui tre trattini, ecco qua i tre trattini cliccati e poi vado a cliccare download, per cui otterrò semplicemente nella mia cartellina dei download una immagine in formato png che riporterà come nome file autodraw e la data di realizzazione. Con un clic su salva il mio lavoro è perfettamente memorizzato sul computer o sul dispositivo mobile, da cui sto usando autodraw, per cui posso utilizzare tranquillamente una penna attiva, uno stilo, un pennino capacitivo o farlo usare su dispositivi mobili anche agli alunni. Ecco una risorsa quindi che non vive solo in tempi di di a di, di didattica a distanza, ma vive come complemento durante una qualunque attività didattica in cui mi serva per avere un effetto wow, cioè un effetto creativo che sorprende i miei alunni magari più piccoli per riottenere la loro attenzione o per stimolare, come dicevo ad inizio video, all'unibest od'alunni con specificità tali da richiedere o da insomma poter farci piegare come dire una risorsa digitale al fine di favorire il loro apprendimento e il loro sviluppo cognitivo. A voi come sempre la prova pratica su strada e un caro saluto ancora da Andrea Cartotto ringraziandovi sempre per la fiducia e la che mi dimostrate seguendo i miei video insomma ed ascoltando i miei consigli. Vi do già appuntamento al prossimo videocorso. Grazie!